per i veri appassionati dei lego la versione lego city ecco qui il calendario dell'avvento veramente tanto 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 carino lo regaleremo alla nostra bimba di 3 anni e mezzo quindi verrà sicuramente un pochino aiutato anche se i pezzettini sono pochi da assemblare quindi penso che comunque nonostante sia scritto 5 e più è adatto anche per i bimbi un po' più piccoli e lo vogliamo vedere? ma sì, apriamolo ho tolto qui, ho staccato con un po' con un coltellino vestiamo, li vediamo un pochino come si apre no, è al contrario ecco qui l'altra parte quindi ho tagliato anche qui ai bordi ecco il nostro calendario dell'avvento quindi fatto davvero molto carino qui poi dopo si assemblano i personaggi e vengono qui inseriti ed ecco le caselline mischiate ok molto molto bello non apro le caselline perché poi sarebbe meno bello per la mia bimba però ve lo faccio vedere aperto dall'interno ecco qui vi faccio un po' vedere come troverete le caselline ecco ecco babbo natale non vedo l'ora no, a mia figlia piacciono tantissimo quindi sarà veramente molto molto bello aprirlo speriamo riesca ad aspettare il giorno successivo perché niente questa cosa fatta in questo modo per lei è la prima volta ecco quindi vediamo se avrà la pazienza di aspettare comunque noi ci proveremo ora li chiudo tutto per bene e il primo dicembre ci sarà la possibilità arrivere il nostro elfo e ci sarà la possibilità di aprire la prima casellina ciao